Come faccio da un anno a questa parte? Ogni volta che annunciano un Nintendo Direct mi metto qua seduto con la mia bella postazione la mia telecamera accesa e mi registro tutta la Direct e la mia Reaction Infatti oggi è ancora il 13 settembre mancano pochi minuti, scoccherà la mezzanotte e secondo me ci sarà una Nintendo Direct da paura! E per l'occasione ovviamente questa maglietta fa caso mio! Sono molto curioso di sapere non solo informazioni su Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna ma anche su titoli per Nintendo Switch Infatti sul canale volevo portarvi Mario Odyssey Magari se mi prende veramente tanto questo gioco ve lo porto, anche per variare un pochettino Mancano pochi secondi, scoccherà la mezzanotte e partirà questa grande Direct Mamma mia, ho un hype pazzesco! Spero che finalmente rivelino un po' di più su Ultra Sole e Ultra Luna perché da quando l'hanno annunciato ci hanno detto soltanto di Licaroc e non si può eh! Va bene dai, io mi metto le cuffie mancano 20 secondi e inizierà questa... questa Direct! 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 Madonna ragazzi, che hype pazzesco! Wow! Mi registrerò per tutta la diretta eh! Via! Peghi 18 Peghi 18 Ci siamo! Ma salve! Benvenuto a te caro Guidami, guidami caro, guidami verso l'avventura Titoli su Nintendo Switch e Nintendo 3DS Perfetto Perfetto Quale sarà? Subito! Subito! Oddio! Cos'è sta roba? Necroz ma ha inglobato solo il Galeo? Una notizia straordinaria Sono in arrivo Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna Parte 1 Il perno della storia Necroz ma Ruba la luce Oh! Si è separato! Ali dell'aurora Sono scioccato Sono scioccato La valle di Pikachu e le spiagge di surfisti sono due nuove aree Vabbè look originalissimi Che è giunta? Capi d'abbigliamento inediti e tanti altri sorprese Vabbè Il modo in cui incontreremo lo starter è cambiato Nura di che Ah! Eccolo con sto lì che rock sicuramente è mossa Z E vabbè E vabbè Speciale rock rough Forma crepuscolo Che non può imparare? Pecchia 12 velos ball Che figata Oh! Usciranno i titoli virtual console per Nintendo 3DS Poké versione oro e argento Questo mi interessa Oh! Celebi In sole luna o oltre sole oltre luna Questo non è male Ok Nuovi Pokémon! Fragore e struttura Oddio struttura è veramente un palazzo Struttura in ultraluna Wow 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 Sì! Sì 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 Sì! Saranno disponibili Nei negozi Dai! Così non devo Ordinarlo su Amazon Wow Wow Aspetta Metto un attimo In pausa C'è altro? Vediamo se c'è altro Ok Metto un attimo In pausa La direct Allora Allora Oh mio Dio Finalmente un trailer Che ci mostra Quello che volevamo Vedere tutti Necrozma Che abbraccia Solgaleo e Lunala E l'ingloba Poi c'è stato Poi c'è stato quel pezzo Dove Tipo Si è schiantato qualcosa Sull'altare E si sono liberati Come se Il corpo di Necrozma Fosse una specie di Involucro Per la Forma originale Di Necrozma Che è fatta solo di luce Pazzesco Pazzesco E adesso io Mi finisco Tutta la direct Perché voglio Vederla assolutamente Perché sono troppo Curioso anche Degli altri titoli Spengo la telecamera E se c'è qualcos'altro Magari la riaccendo E ci vediamo A fine direct Quando l'ho finita Magari nel frattempo Escono anche i trailer Sui canali ufficiali Pokémon Giapponesi Italiani Eccetera E poi ci vediamo Anche quelli Che Che figata Ok allenatori Ho appena finito Di vedere La nintendo direct Di oggi Ed è stata Pazzesca Adesso io vado a dormire Che sono Stanchissimo Ma non prima Di aver visto Sul canale ufficiale Pokémon Il nuovo trailer Magari Vengono mostrati Altri segreti Di quelli che hanno mostrati In direct Odissi Pazzesco Pazzesco Odissi Se lo porterò sul canale Io credo ragazzi Che voglio portarlo sul canale Odissi È un giocone Della madonna Io adoro Super Mario E quindi Quasi quasi Ve lo porto Che ne dite? Schiedimi qua sotto Nei commenti Se volete sul mio canale Sia Pokémon Ultrasole Che Odissi Però adesso Abbiamo un altro filmato Da vedere Sul canale ufficiale Pokémon Quindi andiamoci A spizzare Anche questo Cuffi è qui E lo startiamo Via Ultrasole Ultraluna Necrozoma Prende il sopravvento Eccolo qui Allenatori Ok abita Scudo Prisma Prisma Laser È la sua mossa Esclusiva Ok Soggioga sul galeo Il lunala Guardate come Li agguanta Oh mamma mia Li fa anche male Cavolo Li stritola Criniera del vespro E ali dell'aurora Ma di che stavo A parlare Ma di che stavo A parlare Guardate questo pezzo Qui voglio interrompere Qua stop un attimo Perché voglio farvelo Vedere meglio Guardate questo pezzo Come si separa Guardate Avete visto Sembra come se Si separasse Vedete Qualcosa Questa Questa è un pezzo Molto importante Del trailer Molto importante Via Ok Pikachu Ash Con il cappello La spiaggia Di surfisti Ok La spiaggia Di Pikachu Qua E il Roku Ruff Speciale In regalo Si evolve In ligero Che forma Grebuscolo E ha La mossa Z Esclusiva Ok Dito Tempesta Radiale Va bene Povero Tapu Gogo E c'abbiamo Le nuove Ultra creature Che non sono affatto male Struttura Struttura È poco originale Però Fragor mi piace tantissimo Fragor è veramente carino Come pokemon Come ultra creatura Scusate Bello veramente Quindi Fragor Si troverà In ultrasole Mentre struttura In ultraluna Che dire Che dire Allenatori Oggi Mi hanno fatto Veramente felice Oggi sono Un bambino felice Sono contentissimo Al settimo cielo Wow Due trailer Enormi Enormi Proprio Per non parlare Di tutte le altre notizie Dette In nintendo direct Wow 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 Non vedo l'ora Di giocare Pokemon Ultrasole E ultraluna Farò la guida Sul canale Allenatori Probabilmente si Farò la guida Sia a odyssey Che A ultrasole O a ultraluna Io penso a ultrasole Magari Iscrivetevi qua sotto Quali preferite Tra i due E niente Allenatori Vi lascio un bel like Un commentino Qua sotto Vi invito a guardare Tutte le altre reaction Che vi lascio Ovviamente nelle schede E vi ricordo Che ci vediamo Questa sera Alle 19 Con un nuovo video Vi ricordo Che da oggi in poi Finché ho tante cose Da portarvi Quindi tante nuove serie Ci saranno sempre Due video al giorno Wow Pazzesco E niente Allenatori Noi ci vediamo Con un prossimo video Ciao E Se volete vedere Anche la diretta E la siete persa Ve la lascio Qua sotto in descrizione Ciao Allenatori Ciao Allen Arkansas I A A A A Grazie per la visione!